Ci troviamo sui cantieri della superstrada pedemontana Veneta a pagamento, precisamente nel tratto tra Villa Verla e Malo. A ovest ci sono le colline carsiche sotto le quali è in escavazione un tunnel di 6 chilometri e mezzo di lunghezza, anche se attualmente il cantiere è sotto sequestro per una morte sul lavoro. A est corre l'autostrada A31 Valdastico. Tra noi via l'autostrada, un cavalcavia a sovrappassare il torrente Timonchio. A margine della serata di chiusura del Real Festival 2016 a Schio, organizzato dal Centro Sociale Arcadia e dalla Rete dei Comitati dell'Alto Vicentino, dedicata al fenomeno dello Sprawl, abbiamo intervistato il relatore Fabrizio Bottini, architetto, urbanista, già docente presso il Politecnico di Milano, autore di saggi e pubblicazioni, attualmente redattore del blog www.cittaconquistatrice.it. Sprawl, città diffusa, città infinita. Sprawl significa, tradotto letteralmente, stravaccare, spaparanzare, sdraiarsi scompostamente sul territorio. Danneggia l'ambiente, danneggia l'agricoltura, non è città, non è campagna, ma è appunto Sprawl. Ci sono dei personaggi che sono pro-Sprawl. Essere pro-Sprawl significa dire che questo è qualcosa di spontaneo, è un modo di insediarsi spontaneo dell'uomo sul territorio. Il secondo termine è quello della città diffusa. Descrive lo stesso fenomeno dello Sprawl, però è ambientato specificamente nell'area padana italiana, ancora più specificamente in Veneto. Una volta c'erano gli insediamenti agricoli, c'erano i villaggi, c'erano i piccoli centri storici. Con la modernizzazione si è diffusa la città, si è spalmata la città sul territorio. Si moltiplicano gli elementi di artificializzazione della città senza promuovere tutti quegli stili di vita e le potenzialità urbane che tutti conosciamo. Poi assistiamo all'ultima aberrazione ideologica, cioè che arrivano dei progettisti e dicono che lì si possono ricucire i tessuti, rammendare i tessuti della dispersione, ovvero, e lo dichiarano, riempire i vuoti. Cioè quel poco che ancora non era stato occupato dallo sprawl, dalla dispersione patologica, viene occupato da una nuova edificazione che dovrebbe conferire qualità. Città infinita è un termine coniato ad hoc per giustificare l'esistenza dello sprawl e giustificare la moltiplicazione degli alimentatori di questo sprawl, che sono le autostrade. Un modo per etichettare la necessità di nuove autostrade che alimentino lo stesso tipo di sviluppo, sviluppo edilizio, sviluppo di opere che rilanciano l'economia semplicemente perché drenano risorse. Mandare in crisi altre forme produttive e altre forme di attività economiche all'interno della città per consentire l'altro processo, che è l'ultima cosa, che è la gentrification della città. Adesso abbiamo il suburbio povero, di persone che non hanno più la possibilità di stare in città e si trasferiscono in questi ambienti che dal punto di vista immobiliare sono prezzati meno, con quello che si chiama mutuo di ferito. I primi grandi accusatori dello sprawl a metà del Novecento chiamavano il cartello di questi sviluppisti road gang, la banda di strada, oppure se vogliamo tradurlo la banda delle strade. Sono quelli che attraverso una grande politica stradale e autostradale tracciano una nuova frontiera mobile dello sviluppo territoriale che diventa il motore stesso della crescita sociale ed economica nazionale, perché tutte queste attività sono il motore centrale. Di fatto, una cosa che viene stigmatizzata come negativa all'inizio e pian piano, pian piano, siccome si fa questa scelta precisa di pianificare lo sviluppo in quel senso, perché fa crescere l'economia, diventa la strategia. Spesso ci si chiede perché ci sono i comitati del no a tutto e che cosa abbiano in comune, per esempio, grandi opere come il Mose, il Tav, le autostrade, le superstrade, bretelle, bretelline, varianti, variantine. Questi comitati hanno capito benissimo una cosa, ovvero che sia il Tav che il Mose, che appunto più specificamente la rete dell'autostrade, superstrade, che serve come alimentatore della dispersione urbana, hanno lo stesso fine, che è quello di produrre opere per produrre altre opere. È una grande fabbrica, territorio di trasformazioni che si autoalimenta.